Sentiamo un attimo la posizione di sistema trasporti soprattutto relativo ai pullman che sono costretti al momento ad andare solo in direzione nord, quindi in alto lago. Qual è la penalizzazione? La penalizzazione è che i tempi di percorrenza si duplicano e senza considerare poi non solo da una parte dei costi ma appunto anche di personale viaggiante che comunque a volte per fare l'escursione al lago di Como ci sono necessari al posto che un autista, due autisti e al momento personale viaggiante non ce n'è. Quindi un aggravio anche dal punto di vista economico, giusto? Non soltanto economico ma anche dalla possibilità di effettuare oppure no il servizio, siamo in stagione, gli autisti, il personale viaggiante è limitato, un'ordinanza di questo genere ci può penalizzare anche nella sospensione dei servizi in determinate giornate. Come fate a programmare infatti quello che succede a luglio-agosto? Guardi, per adesso stiamo avendo una forte difficoltà visto anche per l'urgenza dell'ordinanza, l'anno scorso almeno c'era stato dato il tempo tecnico per riprogrammare le escursioni nel migliore modo possibile anche aggiornando gli orari e soprattutto trovando un accordo con i battelli. Quest'anno, tipo le prime due settimane, siamo andati cercando di impiegare i più autisti e creando appunto un disservizio anche per i nostri passeggeri. Quindi si naviga a vista, correggimi... Esattamente, si naviga a vista, veramente a vista, sì. Grazie. Prego.